Chiamo sul palcolo Ercole Salvioni, Presidente di Salvioni Arredamenti. Allora Ercole, la prima domanda che le faccio ovviamente è il ruolo del distributore, se è cambiato, ieri ne abbiamo già un po' avuto qualche accenno a tavola, però cerchiamo di renderlo pubblico. Non volevo partire subito da questo, il ruolo del distributore è cambiato perché in questi ultimi anni diciamo che è un pochino scoppiato il mondo intorno a noi, ci sono stati nuovi mercati e ci sono nuovi mercati che veramente ci stanno proponendosi in maniera forte. Quindi, ritornando al discorso... Sono i mercati che hanno fatto cambiare la distribuzione, non sono i distributori che si sono organizzati diversamente come nel suo caso. Chiaramente i mercati ti ha portato a organizzarti per cambiare la tipologia di affrontare i clienti che entrano nei negozi, perlomeno in un certo tipo di negozio e in certe situazioni, in certi luoghi. Allora mi spieghi come siete diventati voi interlocutori di un contract? Di un? Dei contract, come siete diventati interlocutori loro? Allora, noi contract, noi facciamo le case, non facciamo contract. Contra li facciamo esclusivamente nei nostri negozi, noi abbiamo una società, la Savioni Spa italiana e abbiamo la Savioni Ugano, è un'altra società, è stracere quindi deve essere indipendente. Ecco, in quel caso si fanno contract legato a porte e cucine perché si avrebbero i palazzi interi. In Italia fondamentalmente contract non li facciamo, facciamo bei appartamenti. Quindi in questi termini abbiamo, con questo ultimo negozio che noi abbiamo aperto in Via Dorini, che si prestava molto a rappresentarci, che praticamente sono sei appartamenti da 130 a 140 metri, abbiamo messo la nostra capacità di arredare le case miscenando multimarca e abbiamo creato un qualcosa che chi entra, il cliente italiano o straniero che entra, si dovrebbe stupirlo, vorremmo stupirlo. Ecco, quindi in questi casi dice, la mia casa ideale potrebbe essere quella e la vorrei in questo modo. Quanti stranieri entrano? Voi avete una percentuale su Via Dorini? Allora, innanzitutto Via Dorini è abbastanza recente perché l'abbiamo aperto da tre mesi, quindi il nostro business è legato in Verigo. Durini sta partendo. Diciamo che al momento, in questi tre mesi, le percentuali di stranieri sono intorno al 50%. C'è un straniero che viene qui e si fa arredare la casa venendo nei Via Dorini per indicare e poi dopo la logistica la fate voi. Noi, allora, il cliente, lo cliente straniero sempre di più viene in Italia perché in Italia cerca anche una certa capacità di arredamento che magari in altre situazioni non è presente. ceca anche quando si fa... Scusi, ma una cosa che viene in Italia, fa un giro via Montenapoleone, siamo a Milano e si compra un vestito, una cosa che viene in Italia, va via Durini e si compra... Via Durini o anche altri negozi, naturalmente. E si compra delle cose che hanno una dimensione, hanno una complessità completamente diversa. Poi questo non è un acquisto di impulso, ci avete spiegato nella relazione questa mattina, molto ponderato, non è una cosa che fai lì, entri e compri, o no? Soprattutto quando si fanno le case il cliente entra e tu segui il cliente, quindi nel nostro caso, anche abbastanza fortunato, prendiamo spesso il cliente di Via Durini o da dove arriva e lo portiamo nella nostra sede principale che è in Brianza dove fondamentalmente abbiamo intorno tutta una serie di aziende. abbiamo un'esposizione importante di 3500 metri, quindi un po' di cose, un po' di mobili si fanno vedere e abbiamo intorno praticamente quasi tutte le principali aziende italiane, quindi nel momento in cui tu, un cliente, fai vedere i tuoi showroom e poi lo porti nei showroom aziendali, che sono quelli decisamente ben attrezzati, lo coinvolgi in maniera abbastanza importante e da qui poi parte un discorso di progettazione, di solito il cliente viene o con l'architetto o viene o comunque ci porta le misure della casa e quindi noi cominciamo a progettare questa casa. strategico, se io penso che arriva un cliente nel vostro negozio o poi nei vostri showroom e voi avete una serie di prodotti di aziende che sono anche qua in sala, lei, mettiamo un cliente straniero, si considera un partner delle aziende italiane che producono quei prodotti o un concorrente di fatto viene vissuto? Io ho bisogno delle aziende, altrimenti non potrei fare niente, diciamo con il discorso di ieri sera della piccola polemica legata alla distribuzione estera, di solito monomaica delle grandi aziende, diciamo che il cliente che viene in Italia di solito viene per comprare in Italia, quindi abbiamo questa grossa forza, penso noi della distribuzione, di poter nel momento in cui tu presenti un certo tipo di prodotto nelle esposizioni riesci a dargli quello o dove lo porti nel nostro caso, quindi non è che viene, non è preparato a comprare questa casa o quest'altra casa, quindi in questo caso il cliente è proprio un pochino lo lavori, ecco anche nel momento in cui tu progetti, gli inserisci una serie di prodotti riesci un pochino a convogliarlo verso una tua idea se vuoi. Le volevo chiedere se l'e-commerce, il mercato è al 3% e bassissimo, se quello sarà uno sviluppo, ma non è che in Italia sia per anche beni molto più facili da gestire con la logistica, sia molto supero del 5% il dato medio, 8% è su fashion, ma secondo lei l'e-commerce sarà un punto d'arrivo, bisognerà investire su quello, dato la specificità di questo mercato? In questo momento l'e-commerce è abbastanza basso, ci sono alcuni rivenditori di mobili soprattutto in Sicilia che lo stanno usando, lo usano bene, sono anche bravi, in altre parti è meno utilizzato, diciamo che tutti ci dovremmo organizzare, ritengo che e perché i mobili di solito vanno montati e quindi quando si consegnano di solito vengono consegnati i francommarici a piedi, quindi per i pezzi piccoli, le lampade d'appoggio o le sedie è tutto facile, per il resto come dicevo prima un certo tipo di clientela importante vuole che entri in casa sua gente che è fondamentalmente garantita, quindi sa anche una raggiunta rispetto a quello che si diceva prima, non è solamente una progettazione, spesso e volentieri anche per il mondo c'è anche un montaggio, un servizio e quindi che di solito sappiamo farlo meglio di altre situazioni, proprio perché in queste aziende i nostri dipendenti seguono i vari corsi anche di questo. Sul complemento d'arredo ci può essere uno spazio dell'e-commerce in grande crescita, lei dice su quello da montare è difficile. Al momento sarà molto lento, sicuramente, però non per questo non bisogna attrezzarsi, secondo me sarà una fetta del nostro business. Lei pensa che nel settore del mobile possa, poi lo chiederò anche ad altri ospiti, possa concretizzarsi quello che è successo nel mondo del lusso in Francia, cioè di grandi oldi che controllano diversi marchi e fanno il suo mestiere sostanzialmente centralizzando come proprietà? Al momento, tanto per capire un pochino il mercato italiano, in questo momento ci sono solamente due o tre negozi che fanno intorno ai 30 milioni, fra cui noi Italia e Svizzera insieme. Ce ne sono una ventina che fanno tra i 10 e i 15, quindi il grosso del mercato italiano gira intorno ai 3, 4, 5 milioni. Quindi è abbastanza difficoltoso questo tipo di progetto. Potrebbe essere, ecco, noi come Savioni siamo forse, possiamo essere, diciamo, in qualche modo aggregatori. Aggregatori. Aggregatori, ecco, siamo l'unica azienda, penso mi pare, siamo l'unica azienda in cui io per esempio non vendo quasi tutte le aziende, tutte le aziende, le proprietà sono tutte a livello familiare, tutte le proprietà vendono. Cioè nel mio consiglio di amministrazione a parte del mio figlio ho tre collaboratori, quindi c'è già un'impostazione un pochino più aperta, ecco. Non vende la società? No, non vado su cliente a fare progettazioni, a fare, vado a conoscere il cliente e eventualmente lo seguo nella parte finale, nella trattativa, ecco. Mentre quasi tutti le proprietà delle aziende proprio seguono cliente dall'inizio trafitto. E lei pensa che nel settore non ci sarà una concentrazione, almeno nella distribuzione in Italia? Beh, potrebbe, potrebbe, sicuramente, noi abbiamo un esempio qua vicino che si chiama Lissona, un paese che aveva 600 negozi, adesso ne ha meno della metà, quindi già da quello, già da quello dimostra che sempre di più si ridurranno i punti vendita. È anche un discorso delle aziende che, ecco, in Italia ogni azienda ha dai 150 ai 400 punti vendita, quindi è anche una scelta, ritengo un po' aziendale, di fare una valutazione anche di questo genere, di ridurre anche un pochino eventualmente i punti vendita per, non tanto per favorire l'aggregazione, ma proprio per favorire magari eventualmente anche un altro tipo di discorso, che è quello del, del, in certi casi di favorire una calmerizzazione dei prezzi che in certi casi diventa un pochino, bene. Ecco, un discorso che sentivo prima sul, sul, sul monomarca che è il plurimarca, io dovrei spezzare una, noi siamo plurimarca, dovrei spezzare una lancia decisamente su plurimarca, perché quasi sempre tutti i miei clienti, a partire vediamo quasi tutto a casa, e comunque sono sempre, non ho mai, non abbiamo mai, quasi mai fatto dei lavori monomarca. Ecco, una piccola dimostrazione empirica, ce l'ho, noi l'anno scorso abbiamo aperto con Buster, con Buster Cinema, e abbiamo fatto un certo tipo di fatturato, che sta crescendo, abbiamo aperto Via Durini, li ha attaccato, immediatamente abbiamo raddoppiato fatturato, in quanto, oltre a vendere Buster in crescita, si è venduto tutto il resto, e quindi, quindi con questi termini credo che multimarca sia più, sia più, l'evoluzione del settore. Secondo noi sì. Bene, grazie. Grazie.